E' una partita difficile contro una squadra che ultimamente dà tre gol a tutti, sono in grande salute quindi ci vuole un crotone attento. La nostra idea di gioco non cambia nella maniera più assoluta, abbiamo la nostra identità e la manteniamo sempre. Tutti gli avversari in Serie A meritano la massima attenzione, chiunque esso sia, perché tutte le partite di Serie A sono complicate, difficili e perché gli allenatori sono tutti bravi. Tra parentesi Max e io ci conosciamo da una vita perché abbiamo giocato insieme a Padova, quindi quello che ha fatto lui fino a questo momento è fantastico, è straordinario. A Juventus non vince perché le vittorie arrivano per casa, vince perché è programma, perché è una società seria, perché hanno avuto lo stadio di proprietà, perché hanno costruito un centro di allenamento con l'hotel, perché hanno giocatori di qualità, un allenatore di livello, ma soprattutto perché li mettono in condizione di esprimersi al massimo. Quindi i risultati che la Juve ha ottenuto non sono mai stati risultati casuali. Un punto fa sempre la differenza. La Spala ha fatto un punto con l'Inter, un punto con la Fiorentina, un punto con la Juventus e mattoncino dopo mattoncino stanno costruendo la loro salvezza. Noi, nonostante abbiamo tanti punti in più dell'anno scorso, siamo in un campionato più complicato rispetto all'anno scorso. Quindi anche noi pensiamo di fare la nostra partita e di giocarcela per costruire un mattoncino per la nostra salvezza. A Genoa meritavamo ampiamente il pareggio, ampiamente. Poi, se qualcuno la pensa in maniera differente, io non sono qui certo a contestare. Per me meritavamo ampiamente il pareggio, abbiamo sviluppato un gran gioco, soprattutto nel secondo tempo abbiamo chiuso il Genoa là, tolto gli ultimi tre minuti di partita, che chiaramente eravamo tutti sbilanciati, cercare il pareggio, però la squadra aveva giocato molto bene. Dici la parola stessa, giochi in casa e quando giochi in casa degli altri, gli altri hanno una motivazione in più, perché giocano in casa. Hai visto per esempio il Bologna, con noi sembrava remissivo, in casa ha vinto 2-0, ha giocato una grande partita, tanto per citare l'ultima squadra che abbiamo incontrato. Adesso l'unico discorso che puoi fare è eventualmente verso magari un giocatore che ha un piccolo problema, o che magari non sta bene, ecco allora sì, però adesso non c'è più la parola turnover assolutamente. Non puoi pensare a una cosa del genere. Devi andare dentro a mille all'ora e valutare quello che è successo la domenica prima, la prestazione dei ragazzi, chi sta meglio, chi sta peggio. Valutare tante piccole cose, ma non assolutamente un turnover perché c'è una partita a metà settimana. Io ho avuto un bellissimo dialogo con i Rati domenica e sono stato contento di aver avuto questo dialogo, come sono stato contento di aver avuto un bel dialogo con il quarto uomo e come sono stato contento di aver avuto un grande dialogo la domenica precedente. Abbiamo perso tanto perché io, nonostante sia sempre uno positivo e trovo soluzioni, nel momento in cui Budimir era tornato al suo livello di fiducia, soprattutto, si è infortunato. Nel momento in cui abbiamo perso Nalini che stava andando a 3.000 all'ora, è calato anche Ricci. Nel momento in cui avevamo delle problematiche in mezzo al campo, Rodien aveva la pubalgia. Ogni volta che Isco cercava di rientrare, faceva tre allenamenti, si infortunava. Cioè, io tutte queste cose qua non le nomino perché non voglio che nessuno pensi che io cerco alibi e nessuno pensi che io cerco scuse. Io ho sempre allenato la squadra, ho sempre avuto fiducia in quelli che vanno in campo e continuo ad averla e sono convinto che tutto andrà per il meglio. Ci sta tutto, ci sta anche il fatto che comunque il Crotone gioca sempre a calcio e questo è quello che abbiamo sempre portato. E siamo ancora convinti che questa è la nostra arma in più. Avete visto come ha giocato dopo la partita di Madrid? Quello che è successo a Madrid avrebbe potuto creare qualsiasi problematica a qualsiasi squadra. E loro invece hanno fatto benissimo. Si sono messe alle spalle tutte le polemiche, anche quelle che ci sono oggi tra Benatia e Crozza. Tutte queste cose che col calcio giocato non hanno assolutamente una logica e un senso. E quindi giocatori di spessore come Buffon che al posto suo sfiderei chiunque a fare qualcosa di calmo e di logico. Probabilmente io avrei fatto peggio, anzi. Io ho scritto un libro e Gigi mi ha scritto la prefazione di questo libro. E lui all'inizio di questa prefazione ha scritto esattamente che all'inizio io non gli ero simpatico perché io correvo dietro a tutti, correvo dietro l'arbitro, me la pigliavo con tutti quando giocavo nell'Inter. Perché io come lui viviamo le cose con grande passione, con grande presenza. E quindi chi vive le cose poi può anche reagire in una maniera sbagliata. E poi tutti da fuori sono bravi tutti a dire ma perché fa così, ma perché si dice questo, ma perché si fa quell'altro. Quando si vivono le cose col cuore è dura. Io domenica, sabato, sono tornato da Genova, non sono neanche più uscito di casa fino a ieri a mezzogiorno. Perché per me la sconfitta mi ammazza, mi toglie l'anima. A me la sconfitta mi fa sentire male. Io la vivo così e finché la viverò così farò l'allenatore. Quando non avrò più questa tristezza dentro, questa angoscia dentro della sconfitta smetterò di farlo e me ne tornerò a casa e non avrò più problemi. Però finché ci avrò questa cosa qui, magari sbaglio le scelte, però le faccio. Magari trasmetto qualcosa che non è corretto, però vivo. Faccio le cose come devono essere fatte. Cerco sempre di far sì che le cose non accadano per caso, ma io le voglio far accadere. L'allenatore le pensi ovviamente. Da giocatore le fai razionalmente, perché un giocatore in quel momento può fare un dribbling, un tiro, può inventarsi la cosa. Tu da allenatore devi essere più attento ai dettagli, più attento ai particolari, più attento a tante piccole cose. Devi capire se, per esempio, se programmi un allenamento e poi lo devi tagliare oppure lo puoi allungare. Se devi cambiare una situazione. Devi stare attento a tutti i dettagli. E' una cosa che ti porta veramente a essere 360 gradi dentro in questo lavoro senza mai smettere, senza mai staccare. Stanno quasi tutti bene. Sta quasi bene anche Nalini. E' convocato per domani.